Si chiama Benham Shiraband, 54 anni d'età, è una donna alla quale sarebbe stata portata con un'ambulanza a pronto soccorso dell'ospedale Università di Uskane, di Venezia. La donna non respirava bene, stava male, il figlio si è apprecivato a trovarla per verificare concretamente e minastratto le sue condizioni. E dopo aver visto che nessuno si prendeva cura di lei, avrebbe iniziato a passare la voce per attirare l'attenzione. Però sarebbero state chiamate le guardie dell'ospedale che, dopo aver portato via il ragazzo, lo avrebbero letteralmente massacrato di botte. L'uomo ovviamente non si dà pace, non si spiega perché è un giusto del genere, è rimasto malissimo, non solo a livello estetico, a livello fisico, porta dei traumi piuttosto palesi e inguenti, anche nel suo cuore è rimasto piuttosto amariggiato e infelice. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua, iscrivetevi e commentate al prossimo video da Naro Toro Italiano. E una buona giornata come domenica a voi tutti.